Emanuele Severino ha sicuramente superato il livello di illuminazione raggiunto dal Buddha, dal Cristo e da tutti i più grandi profeti, maestri e mistici della storia. Solo alcuni maestri che vivono attualmente in questa epoca possono avere un livello di illuminazione pari o superiore a quello raggiunto da Emanuele Severino. E perché? Adesso lo spiego. Il discorso che ha proposto Severino è totalmente collegato a una forma di illuminazione che non è astrattamente intellettualistica, ma riguarda qualcosa di infinitamente più concreto e profondo di quello che può risultare a una lettura superficiale dei suoi scritti, dei suoi testi. Cosa afferma il contenuto di Emanuele Severino? E perché denota necessariamente una forma di illuminazione immensa, cosmica? L'eternità di tutti gli essenti, di tutte le cose, la quale comporta? L'unitarietà, la coesione di tutta la realtà. L'intera realtà è una struttura unica originaria, che è composta da una infinità di molteplici parti, ma che risultano inseparabili. Vuol dire che la realtà è tutta eternamente l'insieme eterno di tutte le sue configurazioni, di tutte le sue parti, di tutti i suoi aspetti. La realtà che appare a livello sensibile nella nostra esperienza è come se fosse una serie di fotogrammi, una pellicola di fotogrammi, dove ogni momento della realtà è una configurazione immutabile ed eterna. Noi in tutto ciò saremmo non solo il corpo, o il cervello, o qualcosa ascrivibile ad essi, ma saremmo uno schermo potremmo dire di coscienza. Severino chiama la coscienza cerchio del destino, l'apparire, che non va appunto confuso con l'idea di coscienza a livello psicologico, antropologico e per le forme che assume nella prospettiva diveniente della realtà. La prospettiva diveniente del mondo è quella che viene negata dalla struttura originaria del discorso di Severino. Dicevo, noi siamo come schermi di coscienza nei quali appare tutta questa successione di configurazioni, ma esse, quindi tutti i momenti della realtà, non diventano altro da sé, non si producono, non si trasformano, non si annullano, esistono sempre e eternamente in un cerchio infinito del destino, che è la coscienza infinita. Quindi non vi è un mondo fisico esterno da questa coscienza, perché il mondo fisico è una realtà fatta da atomi e particelle, da enti fisici estesi e capaci di moti sensibili, cioè di muoversi e di spostarsi nello spazio e nel tempo, ma ciò presuppone che gli oggetti si muovano tutti in uno spazio condiviso e in un tempo, ma se la realtà corrispondesse a un modello eternistico, nessun oggetto si muoverebbe, si troverebbe esattamente in ogni istante nella collocazione in cui si trova. Quindi ogni oggetto, ad esempio una maglia, sarebbe l'insieme eterno di tutte le sue configurazioni. La maglia totale sarebbe l'insieme di tutte le configurazioni di quella determinata maglia particolare, che la caratterizzano in tutte le configurazioni. E quindi la maglia non sarebbe un oggetto nel tempo, ma sarebbe l'insieme eterno e temporale di tutte le sue configurazioni. proprio perché in una prospettiva eternistica non vi sarebbe movimento, quantomeno non vi sarebbe movimento degli oggetti dentro le configurazioni, la realtà fisica non avrebbe realtà, perché appunto una realtà fisica priva di movimenti non è fisica, proprio il concetto di fisica avrebbe meno. siccome l'esperienza immediata, ma anche quella scientifica, non ci attesta in alcun modo quale sia la natura ontologica e metafisica di ciò che ci appare, ma ci attesta solo che le cose che appaiono seguono una certa regolarità, un certo ordine, non è possibile liquidare la questione facendo appello a a congetture e ipotesi non rigorosamente filosofiche, perché qui il campo che ci permette di stabilire come stiano o almeno come possano stare le cose è la filosofia. La filosofia ovviamente non slegata dall'esperienza quantomeno immediata, ma che vi coincide, che è collegata all'esperienza e all'immediato. Tra l'altro Severino mostra come, essendo tutta la realtà unitaria, nessuna parte è separabile dalle altre, perché se potesse per assurdo essere separata, non sussisterebbe né essa né tutte le altre parti, perché sono ed esistono proprio perché sono eternamente collegate. E quindi il piano logico non sarebbe tale senza quello fenomenologico e viceversa, perché un piano logico senza apparire fenomenologicamente in alcun modo, in alcuna forma, non esisterebbe neanche come e dove potrebbe esistere. E viceversa un piano fenomenologico, quindi dell'esperienza, che fosse privo di una struttura logica incontraddittoria, che quindi non rispondesse in alcun modo al principio di identità e di differenza, sarebbe impossibile, perché sarebbe un piano totalmente indeterminato, che non permetterebbe né l'apparire stesso di qualunque contenuto, né l'apparire di ogni contenuto, né l'apparire stesso in quanto tale, cioè il manifestarsi stesso dei contenuti, né i contenuti che appaiono. Perché se fossero indeterminati non sarebbero distinti, non sarebbero se stessi, non sarebbero distinti da altro e quindi anziché apparirci un'esperienza determinata, apparirebbe l'impossibile, il nulla indeterminato. E lo stesso apparire, se non fosse determinato, non si distinguerebbe dal non apparire. E quindi sarebbe doppiamente impossibile qualunque esperienza. Ora, la struttura originaria, adesso non approfondisco la fondazione, la giustificazione, è un discorso rigorosissimo, perché è l'unico, a differenza anche della matematica e delle teorie scientifiche, che non si fonda in alcun modo su assiomi e postulati, ma che fonda interamente se stessa su una base incontrovertibile. Come? In che senso? A differenza della matematica, non si basa su meri assiomi e postulati. A differenza delle teorie scientifiche, non stima il suo valore su un carattere ipotetico probabilistico. Ricordiamo che le teorie scientifiche hanno sempre un carattere ipotetico, cioè non si parla di verità come certezza assoluta, ma di verità come plausibilità e probabilità, attendibilità. Le teorie scientifiche possono essere sempre rivalutate e riviste perché nuovi dati potrebbero fornire nuove spiegazioni e quindi modificare le rappresentazioni e le interpretazioni che si avevano. Questo lo insegna soprattutto anche il falsificazionismo di Popper, suggerisce come le teorie scientifiche non debbano mai essere considerate vere e basta una volta sostenute, ma semmai vere fino a prova contraria o comunque non false, meglio dire non false fino a prova contraria. Proprio perché non si può escludere che a un certo punto si conoscano nuove cose e quindi tutto vada modificato o parte delle teorie. Perché quindi la struttura originaria di Severino è infinitamente oltre? E non esagero dicendo infinitamente oltre, perché non c'è un limite quantificabile di distanza tra la verità e l'errore da questo punto di vista. O si è nella verità o non si può coincidere e quindi la distanza è infinita tra le ipotesi e la verità. È un discorso complicato che adesso non posso approfondire. Però qui basti pensare che la struttura originaria riesce a mostrare la necessità delle sue premesse, perché ovviamente parte da delle premesse, a livello discorsivo appare un discorso che parte appunto da delle assunzioni, da delle premesse, che però non rimangono appese e infondate come premesse, ma vengono mostrate come necessarie e come, attraverso un procedimento elenctico, di autonegazione delle ipotesi avverse a quelle premesse. Cioè il discorso di Severino mostra l'impossibilità del contrario, delle prospettazioni avverse, mostrando che si autonegano. Come? Mostrando che le prospettazioni contrarie alle premesse adottate dal discorso severiniano, devono assumere quelle stesse premesse che intenderebbero implicitamente o esplicitamente negare, per tentare di negarle, finendo quindi con l'inverarle, con il mostrarle come necessarie. Perché? Se i massimi tentativi possibili, le massime prospettazioni possibili, di negazione di un qualcosa, lo devono presupporre per tentare di negarlo, è sicuro che tutti gli altri infiniti casi alternativi o che pretendono di essere al di fuori di quelle premesse, non potranno che adottarli a loro volta. Se, appunto, i massimi casi contrari non riescono a non fare a meno di presupporre quello che intendono negare, finendo con l'affermarlo, è ovvio che non potranno fare diversamente tutti gli altri casi. E quindi, anche se concretamente non sono apparsi, in maniera particolare, tutte le possibili infinite obiezioni al discorso di Severino, quantomeno sappiamo che tutte le infinite prospettazioni non potranno fare a meno di assumere almeno alcune premesse fondamentali, senza le quali non potrebbero neanche significare, non avrebbero neanche senso e significato. Cioè, la significanza originaria, la determinatezza originaria, è qualcosa di imprescindibile anche solo per porsi all'interno di un discorso, di una riflessione, nel campo del pensiero, diciamo. Ora, non vado nei dettagli, mi limito a dire che queste premesse sono l'opposizione positivo-negativo e ciò che comporta. Che cos'è questa opposizione? È la struttura di identità e di differenza che riguarda tutta la realtà a tutti i livelli. Cioè, che ogni cosa sia se stessa e non altro. Che ogni identità di ogni singolo aspetto dell'esistenza sia se stesso e non altro. Laddove l'essere se e il non essere altro sono due tratti inseparabili che compongono l'intera struttura. A non è B sia perché A è A e sia appunto perché non è B. Cioè, A è identico a sé anche perché è diverso da B. E può essere diverso da B perché A coincide con A e non con B. Quindi, entrambi i tratti sono inscindibili e necessari ad entrambi. Non può esservi l'identità che è la coincidenza. Essere identici a sé stessi. Essere un'identità vuol dire coincidere con sé medesimi. A è A. Innanzitutto proprio perché A coincide totalmente con A. Ma non può coincidere totalmente con A se non fosse anche diversa al tempo stesso da B. E non potrebbe distinguersi ed essere distinta intrinsecamente da B. Quindi la distinzione prescinde anche dalla capacità e dalle possibilità di distinguere qualcosa. Se B e A non fossero innanzitutto coincidenti con se stessi. Ma innanzitutto in realtà è scorretto perché quell'innanzitutto include la coincidenza di A con A di B con B e il loro differire reciproco. Altrimenti non ci sarebbe nessuno dei due tratti. Ora, dal fatto che è impossibile che le cose non siano se stesse, che i significati e qualunque aspetto determinato dell'esistenza non sia se stesso, perché per prospettare il contrario si dovrebbe assumere questo fatto. Per ipotizzare che A non sia A, bisogna intanto aver presente cosa sia A, perché è di A come elemento determinato, come significato determinato e che si pretende implicitamente di porre come determinato, che si prospetta la possibilità di non essere determinato e di non essere se stesso. Non sarebbe possibile neanche avere il non A di A, quindi l'assurdo, l'impossibile, cioè di A che non è se stessa, se intanto non fosse posta A come determinatamente A. Cioè se non c'è A non ci può essere neanche la negazione di A e quindi non c'è neanche la possibilità di affermare l'assurdo, ovvero che A non sia A, che è un'assurdità, ma è assurdità autentica, proprio perché per asserirsi, per affermarsi, deve affermare quello che nega, cioè che intanto ci sia un A che coincide con A, per poi poter dire che A è non A, ma se non vi è A, non può neanche sostenere che vi sia non A e che quindi A sia non A. È chiaro? Spero di sì. mi rendo conto che possono sembrare ragionamenti contorti, complessi, ma in realtà approfondendo queste tesi poi risultano molto, non semplici, ma molto chiari, molto chiari. Allora, dal fatto che ogni aspetto dell'esistenza, ogni significato è se stesso e non altro, un cerchio non è un quadrato, verità non significa falsità, eccetera, eccetera, a prescindere dalle convenzioni linguistiche, lasciamo perdere questa problematica, anche assumendo la contingenza relativa linguistica, una volta posto un significato, lo si presuppone come identico a sé e non come altro, non come significante altro. Comunque, dal fatto che ogni identità non può che essere se stessa, segue l'impossibilità che un aspetto qualsiasi della realtà possa essere un altro e quindi che possa diventarlo, perché diventare altro significherebbe essere altro. Se si sostenesse che A diventi B, implicitamente si riterrebbe che A smetta di essere A, il che è già impossibile, perché se A smettesse di essere A, A non ci sarebbe più, quindi non potrebbe neanche essere un soggetto poi diveniente, a prescindere se il divenire fosse istantaneo o graduale, anzi, un divenire graduale moltiplicherebbe i passaggi impossibili di trasformazione da un a un altro da una determinazione all'altra, moltiplicando le contraddizioni. Ma una volta che A avesse smesso di essere A, il che è già impossibile, per giunta divenendo B sarebbe B, perché sarebbe A il soggetto a essere divenuto B, secondo la concezione diveniente del mondo. Oppure, è lo stesso, perché si ricade sempre nello stesso errore, se si ritenesse che non sia A a diventare B, ma qualcos'altro, nel diventare B, quel qualcosa, acquisterebbe nuove proprietà e ne perderebbe altre. Se non si affermasse una concezione eternistica, ovvero se si affermasse al contrario il presentismo, ovvero l'idea che la realtà esista solo nel presente, l'idea che il mondo esista solo nel presente, è la concezione ordinaria, quella che ritiene che le configurazioni passate nella loro concretezza in atto non esistano più e che le configurazioni future della realtà non esistano ancora in atto. Invece l'eternismo ritiene che esistano tutte in atto, ma non tutte qui, nello stesso punto, diciamo, spazio-temporale, ma che ogni configurazione esista eternamente in modo atemporale. Quindi l'eternismo non significa affermare che ogni cosa esista sempre in ogni momento del tempo, ma che ogni momento del tempo esista atemporalmente, quindi prima, durante e dopo, il suo apparire nella nostra coscienza, che è anch'essa eterna, secondo l'eternismo severiniano, anche nel senso di sempiternità in questo caso. Sebbene non sia adeguato, però, per approssimare il concetto si potrebbe anche affermare ciò. Bene, allora, per concludere, perché questa comprensione richiede un grado di illuminazione immenso e la chiarezza espositiva, dimostrativa in modo incontrovertibile di questo discorso rende Severino una delle persone più illuminate della storia, sicuramente più illuminato di tutti gli illuminati e i suoi predecessori nel corso della storia umana. Perché? L'illuminazione, proprio perché la realtà è collegata in tutti i suoi aspetti, non può essere solo intuitiva e basta, ed essere scollegata da una comprensione anche rigorosa e razionale della realtà, ma il rigore, l'intelletto, la ragione, sono aspetti collegati anche al sentire interiore, non c'è uno scollegamento effettivo. Per cui, tanto più si è illuminati, tanto più si ha anche un modo di ragionare ferreo e rigoroso, impeccabile, razionale, preciso, puntuale. E Severino ha mostrato il massimo rigore possibile all'interno del panorama del pensiero umano, relativamente agli aspetti di cui ha parlato, cioè dell'eternità. E ha parlato del contenuto più elevato che esista, perché l'eternità implica, per come è affermata nel discorso di Severino, una serie incredibile di implicazioni, dal valore immenso, incalcolabile, il contenuto più elevato che sia apparso nel corso della storia. L'oltrepassamento infinito nella gloria, nella gioia che dovrebbe attenderci dopo questa vita. Il fatto che in ogni cerchio del destino si è previsto l'apparire di tutto quello che hanno vissuto concretamente in carne e ossa tutti gli infiniti altri cerchi del destino, dell'intera totalità dell'esistenza, di tutti i piani e di tutte le dimensioni. E questo è un esito incredibile, vertiginoso, oltre ogni immaginazione, cioè con la mera fantasia non sarebbe concepibile. È qualcosa di una profondità inaudita, troppo originale, troppo grandioso questo contenuto. Ma lo è non solo in sé, ma perché è fondato e segue sempre dalla necessità che tutto sia eterno. Dal fatto che tutto è eterno segue l'impossibilità del divenire, cioè che le cose diventino altro da sé. E uno dei corollari del fatto che tutto è eterno è che l'isolamento esistenziale che stiamo sperimentando, nel senso che sperimentiamo di essere coscienze separate e isolate dalle altre, perché comunque noi viviamo direttamente solo i nostri vissuti e mai direttamente in prima persona quelli altrui, questa situazione temporanea relativa ci fa immedesimare nell'idea che siamo separati come coscienze. Ma questa condizione, questo piano, questa porzione della realtà che adesso ci sta apparendo, secondo l'eternismo non è tutta la realtà, ma è un frammento di tutta l'esistenza. Ed è una porzione minima che rappresenta l'errore nichilistico, la persuasione nichilista del contrasto tra la verità e l'errore. Ed è necessario che appaia, perché se apparisse prima la verità e poi l'errore, o comunque non apparisse l'errore, la verità non potrebbe mostrare di essere certa, incontrovertibile. Se non apparissero infiniti casi avversi alla verità, la verità non avrebbe l'opportunità di mostrare la sua necessità, mostrando che tutti gli infiniti casi avversi la devono presupporre, inverandola e quindi mostrando, assieme ad essi, che essa è vera, certamente vera. E quindi la dimostrazione, chiamiamola così, elenctica del discorso di Severino, è la più rigorosa che possa esistere. È quella per eccellenza. Non è una semplice dimostrazione per assurdo, che parte comunque da postulati e da assiomi espliciti e impliciti, è ben più. Per cui anche l'isolamento coscienziale che fa parte dell'errore relativo di questo piano deve essere presente, ma poi superato. In realtà dalla prospettiva della coscienza infinita è già originariamente ed eternamente oltrepassato. Le nostre coscienze sono una parte, una modalità finita, ma comunque eterna, della coscienza infinita, ed è necessario che esistesse anche questa modalità nella totalità infinita, altrimenti la totalità infinita avrebbe mancato di una possibilità. Cioè, nell'infinito eterno, che è l'esistenza in tutte le sue infinite forme, devono esistere tutte le possibilità non contraddittorie, cioè non autonegantesi, non impossibile, non completamente assurde. Altrimenti l'infinito mancherebbe di qualcosa. L'assurdo, l'impossibile, può esistere solo come prospettazione, come significato, ma non come realtà ontologica. E quindi, dal discorso di Severino che adesso io ho riassunto in modo molto sintetico, segue anche un esito in aspettato, cioè che nel nostro percorso esistenziale debba apparire tutto quello che hanno vissuto gli infiniti altri cerchi del destino. E questo contenuto, automaticamente, nel solo momento in cui viene contemplato profondamente, ci connette, e avrà connesso automaticamente Severino, a sperimentare una forma di unità profondissima con tutto e tutti. Perché? Quell'unità, quella profondità che riguarda appunto il vivere in prima persona tutto quello che hanno vissuto gli altri, ci metterebbe tutti sullo stesso piano. Sperimentare direttamente quello che hanno vissuto gli altri, al di là delle parole, dei giudizi, dei pensieri, farebbe vivere in prima persona tutti quello che hanno vissuto gli altri, facendoli mettere nei panni altrui. E solo quello probabilmente potrebbe permettere la piena autentica comprensione e portare poi a forme di illuminazione e consapevolezza unitaria. Voglio dire, i discorsi che a volte vengono anche mistificati e distorti in chiave nueggiana, del tipo siamo tutti uno, siamo tutti la coscienza divina, eccetera, rimangono astratti. Invece il discorso di Severino porta a compimento la concretezza di quel discorso, perché fa comprendere la necessità che quell'unità della coscienza non rimanga per noi astratta, ma che si concretizzi poi, e non solo in un passo, quello del convegno di tutti i cerchi del destino in tutti gli altri, ma in un percorso poi infinito, perché poi non finirebbe lì. Dopo ci attenderebbe un percorso infinito dove, diciamo, ciclicamente si ripeterebbe l'operazione, senza mai più tornare indietro. Cioè la coscienza di ognuno, il cerchio del destino di ognuno, si accrescerebbe all'infinito diventando dei cosmi e dei molti versi. E così all'infinito, tendendo sempre di più a essere l'infinito stesso, senza raggiungere, terminare mai questo processo che in realtà dalla prospettiva infinita è già compiuto, pur essendo infinito. Sembra un paradosso, ma l'infinito in atto, eterno, nella prospettiva eternistica, non essendo in divenire in sé e per sé, essendo già compiuto, non crea contraddizioni, perché basta pensare che vi sia già di per sé una prospettiva infinita, che contiene già tutto lo sviluppo possibile che può sperimentare, e che sperimenta già da subito, per giustificare un percorso infinito. È dalla nostra prospettiva che sembra non avere mai termine, e in effetti da questa modalità non avrà mai termine, secondo Severino. Però di fatto, dalla prospettiva ulteriore che è quella infinita, è già da sempre tutto compiuto. Allora perché quindi ci tenevo a fare determinati parallelismi tra misticismo, percorsi spirituali, tesi all'illuminazione e il discorso di Severino? Perché appunto è un tipo di discorso che per una serie di motivi denota per forza un'illuminazione immensa, straordinaria, e anche un'altra cosa, il fatto che se Severino ha ragione, allora ha maggior ragione, è chiaro che più si avanza in questo percorso e più aumenta l'illuminazione. E quindi è normale che a un certo punto più si vada avanti nella storia di questo percorso all'interno della prospettiva finita dell'apparire, più aumenti il livello di illuminazione e quindi più aumentino situazioni come quelle che hanno caratterizzato l'immenso Emanuele Severino. Immenso quindi non solo come filosofo, centinaia di spanne sopra qualunque filosofo, ma anche sul piano dell'illuminazione risulta essere un autentico maestro, perché ha portato un contenuto che richiede per forza un'elevazione spirituale indescrivibile, non saprei che altro aggiungere.